14 e 34 minuti primi, seconda parte del nostro telegiornale. Dunque i giovani incontrano le aziende italiane per trasformare le competenze digitali e acquisite online, quindi sulla rete, in opportunità di lavoro. Per parlare di questo progetto che si intitola Crescere in digitale o con me, ospite in studio, Vito Macina, che salutiamo. Vito Macina è un digital strategist della Camera di Commercio di Bari. Dunque buon pomeriggio. Allora cominciamo con questa qualifica che dobbiamo anche spiegare. Cosa significa essere oggi un digital strategist? La spieghiamo subito a tutti i telespettatori qui a casa. Innanzitutto grazie per averci ospitato. Doveva esserci anche la mia collega, la dottoressa Valeria Lanzola, però purtroppo oggi non è potuta venire, quindi insomma faccio le parti per tutti e due. Insomma la Camera di Commercio dal 2015 sta strutturando un grosso piano per investire anche sulle tecnologie digitali, ormai non possiamo farne a meno. E allo stesso tempo abbiamo iniziato dalle imprese, che continueremo, poi lo diremo brevemente al termine. E dall'altro lato stiamo anche cercando di aiutare i giovani NIT, ovvero tutti quegli studenti che non stanno, hanno terminato l'università, non stanno studiando più, stanno cercando lavoro e non stanno seguendo un corso di formazione, diamo una possibilità di incontrare le imprese. Il ruolo del digital strategist. Cos'è il digital strategist? Il digital strategist è quella persona che mette in comunicazione ad esempio imprese e professionisti. Quindi noi all'interno della Camera di Commercio non facciamo altro che dialogare continuamente con le imprese per cercare di farle percepire l'importanza del digitale e allo stesso tempo farle incontrare con i professionisti del settore per trovare insomma un accordo e quindi investire sulle tecnologie digitali. Ecco, Macina, questo è un percorso di formazione in definitiva, cioè mette domanda e offerta e poi si tramuta in una formazione per le aziende che fino a che punto oggi ricepiscono questo messaggio? Cioè comprendono che effettivamente la digitalizzazione dei servizi, l'approccio alle piattaforme informatiche possa essere un ulteriore elemento di innovazione e di sviluppo tecnologico? Punto di domanda. Su questo direttore le posso dire ni. Stiamo lavorando dal 2015 su questo aspetto, continueremo a farlo col progetto Arse Digitalia, quindi un supporto one to one alle imprese proprio per innalzare questa cultura digitale. Allo stesso tempo i ragazzi hanno la possibilità di seguire un corso di formazione gratuito, lo seguono loro, di circa 50 ore offerto da Google dove insomma un leader, un colosso, il motore di ricerca più grande del mondo che gli impartisce tutte quelle competenze, tutte quelle nozioni da portare nelle imprese. Bene, a Bari ci sono delle aziende interessate? A Bari ci sono, io vi posso dire con grande piacere che siamo arrivati a 38 tirocini attivati, di cui 15 i ragazzi continuano. 15 quindi tirocini che si sono trasformati in un'opportunità di lavoro come digital... Diventano digitalizzatori. Diventano digitalizzatori, insomma. Allarghiamo, ecco, l'ultima domanda è questa, cioè abbiamo parlato di Bari, delle opportunità, ma naturalmente avendo diciamo una visione più regionale, in Puglia come siamo messi con questo processo? In Puglia siamo messi molto bene, la Camera di Commercio di Bari come tante altre hanno aderito a tre progetti, Crescere in Digitale di cui abbiamo già parlato, Arsi Digitalia, un supporto costante alle imprese e quindi cercare di far comprendere l'importanza del digitale e il terzo progetto che riguarda tutta la Puglia e anche una parte della Basilicata, Potenza e Matera, avremo la possibilità tramite eccellenza in digitale di coinvolgere tutte le imprese, quindi tutta la Puglia. Bene, buone notizie su questo fronte, quindi continuiamo a crescere in digitale perché offre opportunità di inserimento professionale per molti giovani. Grazie, ringraziamo Vito Macina dalla Camera di Commercio e proseguiamo con il nostro telegiornale. Ecco, rimaniamo sempre in campo.